Noi abbiamo visto un elemento di pressione ma c'è un elemento anche di continuità nella conferma. Certo, questo secondo me è un bene perché lo Stato deve assicurare la continuità. Come farebbe a sopravvivere lo Stato senza assicurare la continuità? Io trovo che l'attuale governo per esempio ha assicurato meglio del precedente governo la continuità nei gabinetti ministeriali, riportando nei gabinetti ministeriali i consiglieri di Stato. Mi pare eccellente la soluzione che è stata adottata ieri dal Consiglio dei Ministri nella nomina che lei citava. Secondo lei è una buona idea quella di Filippo Patroni Griffi? Filippo Patroni Griffi era il presidente aggiunto del Consiglio di Stato e è stato designato all'unanimità dal Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato che è composto anche di membri non togati è certamente uno dei più intelligenti e brillanti giuristi italiani però è stato anche ministro di un governo di centro-sinistra è stato anche ministro di un governo di centro-sinistra ha avuto una questione con la casa anche lui molto simile a quella di Scaiola e no, e vabbè però se dobbiamo metterla... Ma diciamo che mi è sembrata una decisione molto saggia Grazie a tutti Grazie a tutti